Quali cover per Galaxy S8 sono compatibili e riescono a far caricare il terminale con la basetta di carica wireless? Beh questa qui è una domanda che mi è stata posta davvero tante tante volte ragazzi, da tanti utenti, nei commenti, nelle mail. Mi viene chiesto spesso, soprattutto queste ultime settimane, che ho ricensito davvero tante cover per Galaxy S8. A tra proposito quindi ho pensato di fare un video appositamente dedicato a mostrare quali cover funzionano con la basetta wireless e quali non funzionano. Purtroppo non l'ho fatto precedentemente nei video singoli, delle singole cover, perché non pensavo che fosse così rilevante la cosa. Poi non avevo a disposizione, non mi ero portato con me, dato che ero fuori, una basetta wireless di ricarica. E nei video precedenti, in mente dell'S7 Edge, che mi hanno chiesto anche lì tantissimi utenti la stessa identica domanda, purtroppo non ce l'avevo perché era un periodo in cui mi ero venduto una vecchia e ne stavo cercando un'altra nuova, me la volevo comprare. E infatti nel video delle migliori cover, l'S7 Edge, che vi invito a vedere, se nel caso avete un'S7, non l'ho fatto vedere proprio perché era in quella fase un po' di transizione che mi doveva arrivare quella nuova e non avevo quella vecchia. Non pensavo che fosse una cosa così importante per tanti utenti, una caratteristica così, diciamo, non fondamentale, però così rilevante. Ma poi parlando con molti utenti, nei commenti, con le mail, ho parlato un po' a loro e mi hanno spiegato che comunque è una caratteristica che ho dedotto anche io, una caratteristica fondamentale e una di quelle caratteristiche molto rilevanti per l'acquisto di una cover, di una cover piuttosto che di un'altra. Quindi a tal proposito, ecco perché oggi vi voglio, ho voluto mettere insieme tutte le cover che ho raccolto fino ad oggi, che mi hanno mandato l'azienda e ne ho all'incirca più di una ventina, quindi sono vero tante. E quindi ve lo volevo far vedere e ve lo volevo far testare, e volevo testare insieme a voi quali cover funzionano e quali no, così da rendervi ancora un po' un'idea un po' più chiara e sicuramente per le prossime cover che mi arriveranno utilizzerò sempre la basetta di ricarica wireless, in modo tale che sapete già quale funziona e quale no. Comunque le cover non sono poche, sono abbastanza, spero di non dilungarmi tanto per il video e quindi partiamo subito e andiamo a vedere quali cover funzionano con una basetta di ricarica wireless. Allora ragazzi, cominciamo subito con, senza perdere tanto tempo, con la prima cover, io ho già installato questa cover qui della Subcase sull'S8, la Unicorn Beetle Pro. Queste qui sta in versione sia bianca che nera, ma chiaramente non ve le faccio provare entrambi. Queste qui le andiamo a mettere e già vi posso dire che funziona, che è funzionante e che carica. Ok, fantastico. Ed eccola qui che carica. Purtroppo dovete stare, adesso questa qui sicuramente è la differenza che fa la mia basetta rispetto a quella originale Samsung, dovete solo andare a centrare un po' bene nella parte del telefono dove c'è la ricarica wireless, ecco perché non la prendeva inizialmente. Comunque, abbiamo visto che funziona, passiamo alla seconda. Rimanendo sempre in tema di Subcase, andiamo sulla seconda e vi faccio vedere questa qui che è la serie premium ibrida della Subcase, la Unicorn. Questa qui chiaramente ce l'abbiamo anche in versione nera e viola, ma l'hanno mandata in due diverse colorazioni. Ma questa qui sicuramente funziona anche perché si tratta di una cover molto molto fina. Quindi queste qui le mettiamo qui e sono quelle che funzionano. Chiaramente vi ci metto un 1x da parte senza starvi a fare le pile anche di doppioni. Passiamo all'altra, visto che parliamo di Subcase, passiamo alla iblason, dato che ce l'hanno mandata insieme. Questa qui invece è la transformer della iblason, questa qui con il kickstand posteriore. E anche questa qui funziona. La faccio vedere che avevo la mano sopra. Se accendono i led sotto, vuol dire che funziona. Promossa anche questa, passiamo alla prossima. Stampe della iblason, andiamo su quella trasparente della iblason, ma che comunque si tratta che è come la premium della Subcase. Queste qui trasparenti, queste qui sottili, non vi sto neanche qui a dire che funzionano egregiamente con la ricarica wireless. Comunque ve le faccio vedere, però chiaramente funzionano perché sono molto molto fine. Passiamo invece a qualche, sempre della iblason, ma a qualche cover che forse potrebbe non funzionare. Perché comunque abbiamo uno spessore molto molto più spesso, molto maggiore soprattutto per quanto riguarda la cover, la parte posteriore. E parliamo della armor box, della iblason. Ve la apro, perché non è molto facile da aprire questa, soprattutto quando è incastrata molto bene. Quando è chiusa molto bene, non è assolutamente semplice. Ce la montiamo. Ve la monto al volo, così vediamo subito se funziona. Ok, anche se l'abbiamo messa, questa qui, l'harmon box, vi ricordo è quella lì che ha le skin trasparenti dietro da poter mettere all'interno della cover. Mettiamo questa sopra e vediamo, penso che dovrebbe funzionare perché sono accesi i led, quindi anche questa qui funziona. Ve la smonto senza che vi sto facendo vedere come smonta e passiamo alla prossima. Ok, continuiamo il giro con una cover singola. Io ho comprato solo questa qui quest'anno, la Poetic. La Poetic in versione che sta qui trasparente. Le altre purtroppo non ho provate, adesso vediamo se le riesco a comprare oppure me le manda l'azienda e così ne testiamo qualcun'altra. Questa qui è la Poetic, questa qui è molto molto bella, soprattutto perché adesso si vedono tanto le impronte, perché comunque l'ho usata tantissimo. Ma rispetto a tante altre asparenti, insieme a quelle della Sapcase sono quelle che trattengono di meno le titate. Questa qui funziona egregiamente, non volevo neanche stare a dire, ma comunque ve lo volevo far vedere. Leviamo un po' le notifiche. Ok, passiamo alla prossima e adesso passiamo alla serie della VRS Design. Altra serie davvero molto molto bella. La prima che mi viene è questa qui della VRS Design, la Layered Dandy. E andiamolo a mettere, questa pure penso che dovrebbe funzionare egregiamente perché non abbiamo un grande spessore sul retro. Sì, funziona perché è in carica. Quindi, anche questa cover qui funziona nella VRS Design. Passiamo alla prossima, la VRS Design, la Simply Mode. Ma questa qui è quella più sottile che c'è del gruppo, dell'otto, quindi sicuramente funzionerà. Ed è così e funziona. Tiriamola fuori e via un'altra, via la prossima. Sempre quella della VRS Design. Passiamo all'iPro Shield. Bellissima cover, oltretutto, tra virgolette questa qui. Mi è piaciuta davvero tanto per questa sua linea molto molto elegante. Guardate, è bella, l'ho fatta anche vedere nella recensione. Ma anche questa qui penso che funzioni. Infatti funziona. Abbiamo anche questa qui della VRS Design che funziona. Subito alla prossima. Abbiamo quest'altra, la Crystal Mix. Ma anche questa penso che funzioni egregiamente. E potete vedere che funziona. Passiamo alla prossima, che è sempre della VRS Design. Ma un attimo, ragazzi, ve lo dico sinceramente, non mi riesco a ricordare il nome. Ah, la Crystal Bumper, che è quest'altra. La metto qui. Scusate, ma ogni tanto può capitare, fra tutte queste miride di cover, delle volte c'è, che mi posso scordare qualche nome. La Crystal Bumper è quella che si caratterizza rispetto alla mix per il bumper di colorazioni differenti. L'abbiamo sia nero, viola e in altre colorazioni. Ma anche questa qui sicuramente caricherà. Adesso arriviamo invece, le prossime. Sono quelle un po' più difficili, che solitamente non caricano tanto. Perché abbiamo un grande spessore sul retro. Abbiamo, diciamo, una parte vuota. E parlo della Dumbda Glide, della Dumbda Folder. Queste vedete stiamo insieme. Vediamo subito se funzionano queste qui. Ma non penso che riesca a funzionare. No. Sembra quasi che lo prende. Inizialmente, vedete come... Delle volte all'inizio, inizialmente, sembrava come se l'avesse presa, la carica. Purtroppo con le Dumbda Glide non funziona. Penso neanche con la Dumbda Folder, perché è quella ancora più spessa come cover. Cioè, abbiamo uno spessore ancora maggiore. Purtroppo è il vuoto. È questo vuoto qui che frega un po' la ricarica. Questo spazio vuoto dove mettere le tessere. Che secondo me abbiamo lo stesso problema con la serie della Spigen. Questa assolutamente non carica. Non so se sta caricando. Facciamo così. Diamo uno sguardo. Se lo metto così, se funziona. No. Purtroppo, comunque, il sensore era posto sotto. Mi era venuto di fare questa cosa, diciamo, un po' così, istintivamente. Ho detto, proviamo a vedere se funziona con la parte anteriore. Sapevo già che non funzionava, però ho detto, beh, a tentare non nuoce. Passiamo alla prossima, invece, sempre tra WRS Design, la TerraGuard. Quindi, fino adesso, abbiamo visto che solo quelle che non funzionano sono quelle lì con il portatessere. Quindi, la Damna Glide e la Damna Folder. Peccato, perché io ho quelle cover. Sono un amante di quelle cover. Mi piacciono tantissimo con il portacarte. Comunque, la TerraGuard funziona. Anche questa. Vabbè, comunque, è molto abbastanza sottile la TerraGuard. Devo dire, è una di quelle cover che mi è piaciuta perché è resistente. Ha una bella scocca posteriore, ma è molto sottile. E quindi permette la ricarica wireless. L'altra è l'hard drop. Sempre della WRS Design. Anche questa penso che funzioni tranquillamente. Ed ha funzionato anche quella lì. Passiamo alla... Beh, questa qui la metto... La provo, ma è uguale. Abbiamo la stessa hard drop, ma in versione con un retro differente. Cambia solo la plastica. La finitura della plastica. Quindi, è uguale. E chiaramente abbiamo la single fit. Sempre della WRS Design. L'ultima dell'otto della WRS Design. Ma questa qui non vi sto neanche a dire che funziona. Perché è una delle più sottili che c'è. Dobbiamo centrare un po' di più il terminale. E funziona. Anche questa funziona. Ci mancano quelle della Spiken. La Crystal. Mi sta venendo il dubbio se si chiami Crystal o meno. Ma ve lo dico subito. Sì, ragazzi. Si chiama Liquid Crystal. Non mi riuscivo a ricordare il nome. Scusatemi, ma con tutte queste cover poi alcune volte si chiamano in modo nomi simili. Avete visto come prima si chiamava Crystal Mix. Questa qui, che era tutta trasparente. E questa qui poi si chiama Liquid Crystal. Quella della WRS Design ha un altro nome ancora. Quindi, perdonatemi, ma capitemi. Ma delle volte non mi riesco a ricordare tutto. Andiamo a provare la Neo Abilid. La prossima dell'otto. Sempre della Spiken. Ma questa qui funziona sicuramente. Non abbiamo problemi. Non penso che abbiamo problemi con le prossime cover. Se non con questa qui della Spiken con il portacarte. E parliamo della Slim Armor. Questa qui è la Slim Armor CS. E invece questa qui funziona. Sì. Questa qui funziona e me l'ha rilevata. Quindi, il portatessere, la cover con il portatessere della Spiken funziona. Non capisco perché, ma sembra che lo spessore sia lo stesso, sia il medesimo. Beh, forse c'è qualche millimetro in meno rispetto a questa qui della WRS Design. Ripriviamo. Per fare giusto una prova del 9. Sì, funziona. Ripriviamo giusto per curiosità. Con quella della WRS Design, se l'avevo messa bene oppure no. Perché mi sembra strano che con una funzioni e con l'altra no. E infatti è così. Forse l'avevo messa male, ragazzi. L'ho voluta riprovare proprio per questo motivo. Perché pensavo che non funzionasse assolutamente quella della Spiken. Ma quando ho visto che funzionava, ho voluto un attimo riprovare. E invece funziona. Forse, secondo me, dipende solo da come la posizionate. Certo, avendo una basetta così piccola è un po' più difficile. Se poi avete le basette più grandi di ricarica, anche quella originale Samsung, forse, sicuramente, potrete avere ancora meno problemi. Comunque, funzionano solo la Dumbda Folder, che è quella comunque più spessa. Pensavo, già ipotizzavo che non funzionasse con la ricarica wireless. Qui abbiamo la Rugged Armor Extra. La nuova Rugged Armor che la Spiken ha proposto quest'anno per l'S8. Chiaramente, adesso non ho la Rugged normale classica, ma chiaramente funziona. Non ve lo devo stare a dire io. E poi abbiamo la Tog Armor. Una delle mie preferite, che utilizzo davvero tanto, con il kickstand sul posteriore. Ma anche questa qui penso che funzioni, non abbia alcun tipo di problema. Sì, infatti. Forse solo con quelle lì, con il portacarte integrato della VRS Design della Spiken, dove solo stare attenti a come metterle. Ma comunque vedo che funzionano tutte. Quindi, ragazzi, siamo arrivati alla fine del video e vi posso dire, fra le tante cover che ho testato e che abbiamo qui, e devo dire, ne abbiamo davvero davvero tante, l'unica purtroppo che non funziona è la Dumbda Folder. Chiaramente non è un grandissimo problema. Io non lo ritengo un problema primario per questo tipo di cover. Già vi posso capire se non funziona, non so, con la Unicorn Beetle Pro, dato che c'è da togliere tutta la parte davanti, oppure abbiamo anche l'Armor Box della iBlason. Queste qui forse sono cover un po' più impegnative, che diventa difficile, un po' scocciante, togliere e mettere tutta la cover, se nel caso non funzioni. Ma con cover, come queste qui, sì, ok, non funziona, però vedete com'è semplice da mettere. È semplice da mettere, è semplice da togliere. Quindi diciamo che ci potrebbe stare, anche perché è una funzione che tutte le altre cover non hanno, soprattutto questa qui, la Dumbda Folder, che ha un porta cover davvero molto, molto capiente, molto ampio, che ve lo consiglio anche di acquistare, perché comunque c'entrano davvero tante carte, tante biglietti da visita, e c'entrano anche i soldi, se nel caso, non so, andate a correre, vi portate il telefono con voi, avete una taschina, qualsiasi cosa, o volete, per esempio, adesso, periodo di mare, questa qui diventa una cover davvero molto comoda, poi è semplice da togliere. Ultima cosa che vi volevo far dire, che vi volevo dire di questa cover, che mi ha informato l'azienda, che purtroppo io ho ricevuto un sample con un difettato, diciamo, con un piccolo problemino qui di stampa, ma non tutte le cover sono così, anzi, questa qui è l'unica che ha purtroppo questo problema, me la volevo far rimandare, ma adesso vediamo se è il caso, non è il caso, me l'hanno anche proposta loro di potermela rimandare, però volevo far presente, perché non sono così le altre Dumbda Folder, ma bensì hanno, al posto di questo cecchetto bianco, che questo qui è stato un errore di stampa, hanno il logo dell'azienda. È una cosa che volevo dire, adesso devo correggere anche in descrizione, ma per correttezza nei confronti della VRS Design, lo volevo dire anche in questa recensione, visto che l'ho fatta vedere. Comunque ragazzi, spero che vi sia stato utile questo video, spero che vi abbia cadito un po' le idee, su quali cover funzionano con la basetta wireless, stavo dicendo della VRS Design, ma con tutti questi nomi mi sono un po' impicciato oggi, e niente, con le prossime cover sicuramente integrerò anche la basetta, in modo tale da farvela vedere nella singola recensione, man mano che poi farò le altre recensioni delle cover custodivarie, ve la farò vedere in ogni video. Comunque spero che vi sia stato utile, come vi dicevo, siamo arrivati al punto che, a capire che tutte le cover, fino ad oggi d'estate funzionano, a parte qui della Dumbda Folder, e niente, ci vediamo al prossimo video, alle prossime video recensioni, mi raccomando ragazzi, seguitemi, continuatevi a iscrivervi al canale, perché mi fa davvero molto piacere, se vi è piaciuto il video vi è stato comodo, e spero che vi sia stato utile, metteteci un mi piace, ci vediamo con le prossime, che penso che mi stiano arrivando, le prossime saranno la Urban Armor Gear, e le Ghostech, che sicuramente saranno cover molto interessanti, e che le ritengo fra le migliori, poi arrivate quelle, facciamo una selezione, e vi voglio poi pubblicare il primo video per Galaxy S8, con le migliori cover per questo telefono, perché adesso possiamo cominciare a avere un'idea, possiamo cominciare a fare una scrematura, e vi posso dire quali per me, sono tra le migliori, rapporto qualità prezzo e resistenza, poi chiaramente non mancheranno, le migliori cover rugged per S8, e forse vorrei fare anche una serie per le wallet, quindi quelle con portacarte, portatessere, perché ne ho abbastanza, e mi dovrebbe arrivare anche quella della Ghostech, comunque ragazzi, per questo è tutto, da Pier Giorgio, Times Gadget, buona giornata a tutti, e grazie ancora di seguirmi. Grazie a tutti.